Carissimi, buongiorno, ben ritornati con noi, siamo in diretta come sempre, con noi quest'oggi ci supporta nell'approfondimento che riguarderà da un lato il rinnovo dell'RSU nelle pubbliche amministrazioni, negli ospedali, nelle scuole, insomma in quest'ambito, anche il settore della scuola, del lavoro, parleremo anche del Job Act, se è vero che ci sono prospettive di apertura e di assunzioni concretamente nel territorio, e quindi ben arrivato a Franco Lorenzon, segretario generale della CISL per Belluno e Treviso. Buongiorno. Grazie anche a lei. Belluno e Treviso che sono due territori, due aree provinciali molto interessanti perché rappresentano da un lato una zona di Belluno, una zona che ha subito un tracollo economico significativo e importante, era la zona dell'occhialeria, eccetera, il trevigiano, però era dello sport system, ci sono tantissime piccole e medie aziende, hanno avuto per ultimi il tracollo alla zona di Treviso dal punto di vista economico con la crisi economica, capire se qui c'è stata, se ci sono per voi percettibili segnali di ripresa per quel che riguarda più che altro le assunzioni, i lavoratori, la situazione economica delle aziende è molto importante e diciamo così simbolico a livello regionale, anche se poi abbiamo altri territori con altre tipologie di aziende, diverse naturalmente. Quindi vedremo un po' di analizzare questo, però prima di entrare nel territorio, quindi dare o non dare lumi di speranza alle persone, vediamo di capire queste tre giornate, siamo proprio nel cuore delle giornate, volte allo stimolo ad andare ad eleggere le proprie rappresentanze sindacali, unitari e cosiddette RSU, per chi è del pubblico impiego. Allora, che importanza ha, che cosa sta a significare questo? Ecco, i rappresentanti sindacali nel settore del pubblico impiego sono gli stessi che ci sono nel settore privato, la differenza è che l'elezione di questi rappresentanti avviene contemporaneamente in tutti i luoghi di lavoro, nel settore della scuola, ma anche negli ospedali, nei comuni, nelle amministrazioni locali e statali, nelle regioni, nelle province. E quindi si concentra ogni tre anni questa, come dire, opportunità di rinnovare la partecipazione all'interlocuzione con la pubblica amministrazione. Le persone ci credono ancora? C'è la stessa partecipazione di un tempo? C'è una flessione? Un momento di crisi? Anche del sistema pubblico, messa in discussione di certi fatti scontati? C'è una rivalutazione del sindacato? Sto incontrando alcune di queste persone, le ho ringraziate veramente perché oggi rimetterci a assumere questo ruolo in cui le aspettative sono tante e le risorse ai me sono calanti. Sono rappresentanti che non hanno, come dire, un rimborso spese, non hanno vitalizi, non hanno riconoscimenti economici e quindi lo fanno gratuitamente, lo fanno per convinzione, lo fanno per generosità e quindi non c'è con dubbio che si tratta anche di un esercizio per certi aspetti coraggioso. Noi abbiamo avuto l'opportunità di avere tutte le candidature praticamente in tutti i luoghi di lavoro, le do un dato, in provincia di Treviso ci sono 95 comuni, le abbiamo presentate le nostre praticamente in 90, a Belluno sono molto più piccole, ma sono 67 comuni anche lì per dire la capilarità di questa presenza. La cosa importante è che tutte queste persone sono lì nel loro posto di lavoro a rappresentare i loro problemi. Noi abbiamo trovato una grande consapevolezza, un grande entusiasmo e se mi consente anche una grande generosità perché, come si dice, non è un luogo nel quale si va per avere un tornaconto, ma per esercitare una rappresentanza che è in questo periodo molto difficile. Lei lo sa che in altri momenti il sindacato ha avuto un ruolo e un riconoscimento anche sociale molto più alto. Oggi è un passaggio molto molto delicato, nessuno vive di rendita e noi nemmeno. Che importanza può avere adesso avere una rappresentanza sindacale e per voi, dall'altra parte, essere scelti come più rappresentativi? Sì, ovviamente. In un rapporto, le dico, in questo preciso contesto, dove c'è questo governo, dove ci sono queste difficoltà di interazione ben precise perché in altre situazioni è diverso. Allora, con questo governo, ma anche con i grandi problemi che abbiamo, la tendenza è a semplificare. Cioè, c'è qualcuno che deve risolvere i problemi per tutti, noi sappiamo, i telespettatori sanno, i cittadini sanno, gli insegnanti sanno, i lavoratori sanno che c'è una situazione che ha bisogno di essere risolta, c'è il grande problema della disoccupazione, c'è il problema del posto di lavoro, c'è il problema dell'economia che non tira, eccetera. Tutti vorrebbero, dopo sette anni, le do un dato, ogni anno di questi ultimi sette anni, il prodotto interno lordo è diminuito di 110 miliardi di euro. Cioè, noi abbiamo, la famiglia Italia, ogni anno, da sette anni, ha 110 miliardi in meno ogni anno da redistribuire. Per avere un'idea, 110 miliardi è il costo totale del sistema sanitario italiano. Allora, in questo discorso, come sta dentro il sindacato? Sta dentro un po' stretto. Vediamo anche il governo che dice, poche discussioni, andiamo alla soluzione. Noi siamo convinti che questa è una moda che pian pianino verrà un po' meno. Cioè, le soluzioni miracolistiche, i corti circuiti, le situazioni improvvise che ti risolvono tutti, non esistono, esistono solo nella fantasia. Magari, come in questo momento, c'è bisogno, che so io, di una sterzata, c'è bisogno del cambio di marcia, c'è l'inversione di tendenza. E allora, magari esiste anche lo shock. Però, non c'è niente che può togliere all'impegno quotidiano di interlocuzione nei posti di lavoro, nel territorio, nelle regioni, al centro. Questo è il compito del sindacato. Attenzione, qualcuno ha avuto l'idea in passato, c'è anche oggi, il sindacato è il vendicatore della notte, quello che risolve i problemi, quello che rappresenta tutti i disagi. Il sindacato, anche molto più concretamente, è un soggetto che contratta e, in particolar modo, la CISL, se mi è consentito, ha come suo DNA 100% sindacato. Alle volte qualcuno ci associa alla politica perché corriamo dietro di qua e di là. Noi riteniamo che, a cominciare dalle RSU, rappresentanze sindacali e unitarie, il loro compito è di dire, nel mio posto di lavoro, nella mia scuola, nel mio ospedale, nel mio comuno, nel mio comuno, com'è che io tutelo il lavoratore e, contemporaneamente, questa è la nuova sfida, riesco a dare servizi efficienti per il cittadino? Ah, infatti, perché questo è segreto sempre uno scuola. Si collocano dentro a questo tipo di sistema, tutelare il lavoratore, perché questo è il compito del sindacato, in un contesto in cui dobbiamo dare servizi efficienti alla macchina. L'esula, dal suo ambito, ma un po' così, una cosa che le chiedo, perché è un sindacalista, insomma, lei ha detto una cosa importantissima, che in passato è venuta meno, perché il sindacato era quello che si arroccava nella tutela asburgica dei diritti dei lavoratori, a prescindere dai diritti, poi, dei servizi che doveva essere fornito. Il caso dei vigili, vabbè, sulle prime pagine, vigili di Roma, no? C'è stata una sanzione che è stata proposta al sindacato, peraltro il risorio a 100 mila euro. A parte il fatto che alle volte si usa il termine sindacato come un passepartout, mi permetto di dire, c'è il sindacato, quello confederale, che è più conosciuto, CGL e Cislui, però poi ci sono tanti sindacati più o meno autonomi e nel settore della pubblica amministrazione la loro presenza è molto più diffusa, perché è sostanzialmente la possibilità di fare delle rivivindicazioni che sono definite corporative. Corporative vuol dire che uno interessa il proprio corpo, le proprie rappresentanze e non gli interessa niente di quelli che sono gli effetti delle proprie iniziative. Se io blocco un servizio pubblico, mentre per il sindacato confederale l'attenzione al fatto che abbiamo a che fare con dei cittadini che sono altri lavoratori, peraltro, eccoci, è un tentativo di metterli assieme che noi teniamo sempre presente. Secondo lei questa presa di posizione che è stata vista anche dalle persone, dai normali cittadini, come aberrante? Perché? Perché anche quando si è parlato di ridurre altri, toccare i dipendenti pubblici in generale in vari ambiti, ogni volta il sindacato, anche in situazioni paradossali o tutela di redditi spropositati che non stanno né in cella in terra, c'è stato l'intervento del sindacato. Il cittadino, poverito, normale, che dice io vivo con 1200 euro, queste qua non fa niente, se ne porta a casa. No, no, intanto sfatiamo una... Ecco, quindi cerchiamo di... lei cosa ne pensa di questo? Perché questo è andato a discapito sempre della figura poi in generale del sindacato. Lei dice, sì, ma questo è di minoranza, davanti agli occhi delle persone è il sindacato. Gli occhi delle persone devono anche fare un minimo sforzo di capire come stanno le cose. Intanto ci sono anche tante bufale. Il fatto che i pubblici dipendenti ricevano stipendi di qual importo, questo qui è una grande bufala, gli stipendi nella pubblica amministrazione, lo dico con cognizione di causa, sono mediamente più bassi di quelli che si trovano nelle aziende anche private di medio livello, non sto dicendo le aziende più piccole e piccolissime. Quindi il lavoratore pubblico, che tra l'altro, lo ripeto qui, a seconda della scuola o della pubblica amministrazione, sono 5 o 6 anni che non rinnovano i contratti nazionali di lavoro. Le ricordo che nel settore privato sono stati persi circa un milione di posti di lavoro, perso il 25% della produzione e quindi delle aziende che sono venute meno, però non è mai stato perso un contratto nazionale di lavoro, magari rinnovato con poco. Però loro l'hanno sempre fatto, i pubblici dipendenti sono 5 o 6 anni che non rinnovano il contratto nazionale di lavoro. Quindi veramente, lo dico con cognizione di causa, è una bufala quella che prendono. Altre cose, altra cosa sì, ci possono essere degli super stipendi di manager che prendono e questi sono anche, come dire, in numero, alle volte un po' eccessivo. Però mi consenta di dirlo che non sono quelli che sono tutelati dal sindacato, questi si autotutelano per conto loro. Le do un dato paradossale. La pubblica amministrazione negli ultimi 4 o 5 anni ha perso qualcosa come 300 mila posti di lavoro, non ha rinnovato i contratti di lavoro e la spesa è aumentata. Se qualcuno mi spiega questo mistero o questo paradosso, la dice lunga del fatto che quando si pensa alla pubblica amministrazione, si pensa soprattutto all'esperienza del proprio rapporto con la pubblica amministrazione. E allora a un certo punto si fa tutto un coacervo, non distinguendo per esempio dall'impegno che c'è quotidianamente. Ecco, le dico due esempi e su questo sono sicuro che anche quelli che ci ascoltano, al di là di qualche eccezione, possono capire. Andate in una scuola oggi, andate dentro in una scuola elementare e vedete cosa fa un insegnante, come si rapporta con i genitori, ha dei bambini che su 20 bambini ce ne sono 15 che magari vengono dall'estero, nessuna discriminazione ma l'attenzione è maggiore. Provate ad andare dentro su un ospedale dove vieni recuperato di notte e trovi sempre qualcuno. Tante volte questo tipo di servizio viene dato per scontato. Loro sono pagati per fare questo indipendentemente dal fatto che poi venga riconosciuto la loro professionalità. Tutelare il lavoro vuol dire riconoscere a questi lavoratori, attenzione, che sono una fascia che prendono 1200, 1500, 1700 euro, 2000 lordi, che poi non pensiamo che gli stipendi nella pubblica amministrazione. Quindi sotto questo profilo, vero è quello che diceva lei prima, ci sono stati degli abusi, ci sono state delle eccezioni. Purtroppo ce ne sono tanti perché ne vengono fuori. Cioè la corruzione nell'ambito del pubblico è una piaga che sta venendo fuori, cioè vabbè continua a venire fuori ogni giorno. Lei ha tirato fuori una parola. No, io ho fatto una notizia di oggi del giornale che era a grandi titoli, il sindacato deve sborsare 100 mila euro per i vigili, per i tot vigili che hanno fatto una cosa che... Si rompe, paga, i coci sono suoi. Esatto, infatti è quello che... Cioè uno che si mette in malattia, peraltro controvando anche qualche medico compiacente, l'ultimo dell'anno perché deve fare altre cose, non è che il sindacato, come dire, lo può difendere. Eh ma infatti, questo vuol dire, cioè voi che siete sindacato, per carità, da un'altra parte, non importa, avreste dovuto trassalire e dire ci stacchiamo completamente da questa cosa Per le informazioni che ho io, proprio citando il caso di Roma e per l'organizzazione che rappresento, mi pare che la cosa non abbia interessato i nostri iscritti o in misura assolutamente insignificante. Le dicevo prima che mentre nel settore privato la presenza di un sindacalismo corporativo è molto minore, perché? Un motivo molto semplice, perché l'interlocuzione, la contrattazione, la fai con un'impresa che deve stare sul mercato, no? Nel settore pubblico trovi, alle volte, lei non ci crederà, ma trovi qualche controparte, come si dice, che sono più generosi delle nostre richieste, perché lei sa che si può anche avere attraverso l'elargizione di benefici o di privilegi, si ha anche in cambio il consenso politico. Eh beh, certo. Consenso politico, quindi voglio dire, alle volte è successo un po' paradosso, noi siamo stati anche un po' sulla graticola, perché? Perché se sto con i lavoratori mi dicono che difendo troppo i lavoratori, se invece prendo le distanze e dico che non devono fare quel certo tipo di comportamento, ci dicono che noi non rappresentiamo più i lavoratori perché loro non ci ascoltano e vanno all'altra parte. È l'esercizio difficile, io non voglio sottrarmi, è l'esercizio difficile di questo passaggio che abbiamo individuato all'inizio. Abbiamo individuato, e lei l'ha messo in evidenza molto bene, il fatto che stare dentro nella società italiana difendendo i lavoratori deve contemperarsi col fatto che tutta la società e i cittadini ne abbiano un beneficio di questa cosa qua. Noi riteniamo che anche in questa fase di crisi i lavoratori del pubblico e del privato abbiano pagato e stiano pagando un conto abbastanza salato, che altri, salato nel senso o sotto forma di disoccupazione, o mancato il rinnovo del contratto, o un'organizzazione del lavoro. Torno a ripetere, se poteste farlo, andate a verificare come nelle nostre scuole, i nostri insegnanti risolvono quotidianamente problemi di burocrazia, di lingua, di programmi, di rapporti con le famiglie, dei bambini schizzati. Ma tutti, no, no, nessuno dice niente, è soltanto che è un po' un dato di fatto che c'è questa situazione di diversità. Poi giustamente le metti là fuori magari gli insegnanti che magari sono precari, adesso ne parleremo, perché parleremo anche della buona o cattiva scuola. Però ci sono molti altri che rivestono anche i ruoli, che lo sappiamo, negli enti pubblici, poi non parliamo dei ministeri, Stato, Parasato, tutti quelli che non si vogliono eliminare. Io ripeto sempre l'elenco di Cottarelli perché è stato lasciato lì lettera morta. E sono tutti raccomandati. Posso dirle che Cottarelli è stato lasciato lì lettera morta dai politici, non da sindagati. Sì, no, infatti, però sono tutte le schiere di persone che stridono con quelle che lei segue, comunque voi seguite, del territorio, cioè le tantissime imprese del territorio, che lei sa benissimo di cosa sto parlando, lavoratori che si sentono, cioè vengono licenziati, ecco, dicono ma proprio perdo il posto di lavoro, ma dall'oggi al domani non esiste contratto a tempo determinato che ti salvi, è quello la paradosso. Possono fare le riforme che vogliono, l'articolo 18, 19, 20, per assurdo, ma è così. Perché ormai le aziende sono in situazioni di difficoltà e comunque basta essere assunto di una società di due persone che ti licenziano quando vuoi, anche contratto a tempo indeterminato, quindi non c'entra niente. È veramente una situazione diversa. Nel momento in cui ci sono tanti che hanno perso il posto di lavoro, la percezione di altri che hanno questo tipo di garanzia viene considerata un privilegio, che alla fin fine il privilegio non è perché dovrebbe essere un diritto per tutti. Beh, beh, è una normalità, ma così non è diventata, così non è più. Sì, ma è. E io le chiedo questo per portarci proprio nel territorio, perché voglio eliminare la situazione nazionale che ci porta soprattutto verso Roma, verso aberrazioni di sistema. Qual è la realtà che voi affrontate nel territorio di Belluno, quindi, dal pubblico, dalle scuole, dell'ospedale, eccetera, e di Treviso? Beh, intanto lei ha detto... Pubblico e privato, quindi. Sì, pubblico. Lei ha fatto un'affermazione prima un po' eccessiva, no? C'è stato il tracollo, ha usato un termine il tracollo anche dell'occhialeria e roba del genere. Si sta riprendendo, si sta riprendendo. Sì, no, abbiamo ad Agordo il buon dal vecchio, che Dio lo conservi, come dire, in salute, che ha fatto, ho visto anche recentemente, molti guadagni, ma che ha rappresentato... Ma in me dobbiamo stare molto, molto attenti al fatto che non ci sia un'azienda sola, perché se poi crolla quella... Però sicuramente sul discorso dell'occhialeria, anche nel bellunese, c'è stata una sostanziale tenuta. Piuttosto il discorso dell'industria nel bellunese e anche nel trevigiano vivono i problemi di un territorio che ha tante piccole, piccolissime aziende e che nel confronto globale adesso si sono trovate molto in difficoltà, ma alcune, non tutte, si sono trovate in difficoltà perché andare dentro nel mare grande... Prima eri abituato a veleggiare con la tua barca nel mar Mediterraneo o nel mar Adriatico. Quando vai sull'oceano hai bisogno di strutture. E si è verificata, si sta verificando una cosa, non credo che sia tipica della nostra, ma abbastanza delle nostre realtà, è la seguente, che specialmente in questa parte finale della crisi si sta avendo un effetto polarizzazione. Cioè non ci sono aziende che vanno bene, quelle che vanno così così e quelle che vanno male. O vanno male male o vanno bene bene. Perché non dimentichiamoci che la crisi sta rappresentando anche grandissime opportunità. Le aziende che hanno trovato il business giusto, il prodotto giusto, l'invenzione giusta, stanno facendo soldi a palate. Perché? Perché il mercato si è allargato di 400 volte rispetto al precedente. Quelle che invece sono entrate nel cono d'ombra o che sono arrivate purtroppo, ahimè, impreparate a questo, magari quelle che sono arrivate sottocapitalizzate, che non avevano gli investimenti fatti, che non avevano il prodotto giusto, ahimè. E quindi adesso c'è quello che sta avvenendo, una selezione. La domanda che tutti si fanno, è finito questo periodo di, in realtà, mi ricordo nel 2008 i giornalisti mi domandavano sempre, quanto durerà? E tutti quanti dicono, beh, arriveremo fino a Pasqua del prossimo anno, arriveremo, io avevo un mio amico studioso che mi dice, guarda che questo dura fino al 2017, era il 2008 allora, e dobbiamo ancora arrivarci. Aiuto! Quest'anno sicuramente è un anno che si prospetta positivo, perché ci sono varie situazioni che favoriscono l'opportunità di una ripresa. L'unico problema è di capire se è, come si dice, un fuoco di paglia, lei sa che il fuoco di paglia, quando ha bruciato, poi torna come prima, oppure se è un giro che, attenzione, senza miracoli, ma lentamente riporta anche, ecco, l'ho detto prima, ci sono aziende che fanno grandi, però dobbiamo riportare anche grandi numeri. In Italia abbiamo perso un milione di posti di lavoro, vuol dire, tanto per darle un'idea, 100-120 mila in Veneto, vuol dire, in realtà, trevigiana, vuol dire 20 mila, 25 mila, e quindi dobbiamo ricostruire i numeri. Assolutamente. Secondo lei è fattibile allo stato attuale o ci saranno tanti morti che resteranno per strada? I morti sono i lavoratori? Beh, i morti ci sono già stati, ahimè, cioè voglio dire, e proviamo a pensare a quella fascia di lavoratori che non cerca più niente, infatti, eccola. Ci sono due tipi, uno è più drammatico e uno è più pericoloso, quei giovani e quei vecchi. Parliamo anche di questi, io le interrompo un attimo, così lasciamo in sospeso i telespettatori, pochi secondi di pubblicità, poi torniamo con voi.